i libri delle masche i libri del potere testimonianza di giuseppe bruno detto beppe de tita ciott nato a chiotti di valleriate classe 1893 contadino eravamo cinque figli e padre e madre avevamo poca terra tutta roba di montagna e due vacche nella stalla ai chiotti vivevano altre otto famiglie tutte più o meno poveri come la nostra nella zona erano pochi i ricchi quelli che avevano tre o quattro vacche e l'asino all'inverno dormivano nel soppalco di assi che fungeva da giaciglio detto anche bauti o trabial o cabec sotto la volta della stalla padre e madre dormivano invece sul giaciglio e d'estate dormivano sul finile le show l'essiccatoio delle castagne era la nostra cucina mangiavamo tutto l'inverno castagne e patate non ricordo di aver mangiato della carne da giovane nemmeno alla festa nemmeno a sant'anna l'ultimo giorno di carnevale andavamo poi a comprare due litri di vino e mangiavamo la pasta asciutta finito di mangiare noi bambini ci incontravamo fuori e uno chiedeva all'altro hai bevuto del vino e per dimostrare che l'avevamo proprio bevuto facevamo venire su una colata e la sputevamo sulla neve come prova era così io mi sono affittato per la prima volta in francia a barcellonetta quando avevo 13 anni il 20 aprile là c'era la fiera sulla piazza c'era il mercato dei pastori eravamo sempre 300 e più bambini e bambine da affittare mi sono affittato per sei mesi vicino all'arche la paga era 100 lire e un paio di scarpe la stavo bene nel mangiare avrei fatto la firma di mangiare sempre così il secondo anno mi sono affittato sotto gap alla rocca dei ciarnò 300 lire la paga a guardare una trentina di pecore quando avevo 16 anni sono andato a la lunda vicino a ieri a zappare delle vigne la gli scassi li facevano già a macchina con le macchine a vapore con gli argani che tiravano gli aratri guadagnavo 40 soldi al giorno due lire e due litri di vino piccolo de piccutà sono rimasto in francia fino al 1913 quando sono partito da coscritto ho dovuto fare tutta la guerra del 15 con il secondo alpini battaglione borgo san dalmazzo ho combattuto sul monte ludin monte nero rombon san michele santa maria santa lucia smerle nei giorni della ritirata di caporetto sono caduto prigioniero a cividale ci hanno mandati all'ins poi a insbruck dove mangiavamo soltanto patate e barbabietole lavoravamo ad aggiustare la ferrovia 700 grammi di pane da dividere in 16 soldati avevamo fabbricato delle bilance per fare le razioni di 1500 che eravamo ci siamo salvati 400 poi la guerra è finita sono tornato a piedi in italia a piacenza ho preso il treno per cuneo poi ho raggiunto valoriate a valoriate incontro una donna che mi chiede di che borgata sono sono di chiotti le dico ne sono morti i due stamattina di chiotti sono morti di spagnola e chi sono titaciott e sua figlia mi sono messo a piangere disperato sono entrato nell'osteria a bere qualcosa poi mi sono incamminato verso casa mio padre aveva 62 anni e mia sorella 22 erano lì morti mia madre era a letto malata anche mio fratello era a letto malato soltanto la moglie di mio fratello era in piedi con i tre bambini dopo due giorni anche mio fratello è morto mia cognata è tornata a casa sua portandosi via i bambini io sono rimasto solo con mia madre poi mi sono sposato nel 1925 sono tornato in francia ancora a ieri ancora a lavorare la vigna io guadagnavo 10 lire al giorno e mia moglie 5 lire lavoravamo anche di notte al chiar di luna pur di risparmiare nel 1937 sono ritornato a valoriate con i risparmi della francia abbiamo comprato un chabot a san pietro del gallo siamo riusciti a far studiare nostra figlia da maestra ma lei vuole che io le racconti le storie delle streghe ne so tante a valoriate si parlava tanto delle streghe che le de lurence de teve raccontava che una sera aveva lavato i recipienti della toma e voleva portare quel liquido su all'abitazione stalla all'alpeggio per non sprecarlo per darlo da bere alle vacche ma aveva paura ad attraversare il vallone de chiamfree il vallone delle masche appunto delle streghe infine ha preso l'asino ha caricato i recipienti è salito a cavalcioni dell'asino ed è partito ma come ha raggiunto il vallone de chiamfree sono arrivate le streghe che hanno incominciato a mungere il latte dalla schiena dell'asino era un latte bollente e glielo sprizzavano addosso poi le streghe hanno accompagnato che le fino alla meira e gli hanno detto hai avuto fortuna che eri a cavallo dell'asino se no di te non ci sarebbe nemmeno più un'unghia l'asino ha la croce sulla schiena è il pelo che disegna la croce così le streghe non possono fare del male né all'asino né a chi lo cavalca nelle nostre borgate c'erano tre giovani uno era pietro il fratello di malin io l'ho conosciuto era un giovane che aveva studiato era un po maestro una domenica questi tre giovani decidono di scendere a valoriate a bere una volta e a fare una partita alle carte partono bevono giocano poi uno di loro propone di andare a vegliare in una casa dove ci sono delle ragazze ma pietro rinuncia dice ah io vado a coricarmi prende la strada in salita si incammina nel bosco verso casa arriva nel vallone delle streghe un vallone che era sempre asciutto e vede che il vallone è pieno d'acqua e vede che dalla montagna rotolano giù delle grosse pietre eppure deve superarlo quel vallone si decide lo attraversa ma quando sull'altra sponda si accorge che l'acqua non l'ha bagnato allora si mette a urlare ben forte stanotte l'avete combinata a me ma domani notte la combino a voi me la pagherete cara l'indomani mattina era autunno pioveva pietro si mette a segare della legna ben secca prepara due grosse fascine e le sistema nello sciù alla sera mangia cena poi i suoi di casa vanno a vegliare in una stalla dai vicini pietro resta solo si accende il fuoco prende il libro si mette a leggere a leggere mentre nel caminetto l'acqua bulle nel paiolo dopo un po entra una donna e dice buonasera poi ne entra un'altra e un'altra ancora pietro non alza mai la testa continua a leggere chiudi il libro pietro implorano quelle donne per l'amor di dio chiudi il libro ma pietro continua a leggere fino a quando lo sciù non è ben pieno di streghe a questo punto pietro parla a tutte quelle donne e dice guardate io vi perdono ma giurate che non farete mai del male né a me né alla mia discendenza se no vi farò passare tutte nell'acqua bollente le streghe giurano e lui finalmente chiude il libro allora si vedono tanti gatti che corrono giù nel bosco miagolando miau miau tutta la gente che era in veglia esce spaventata dalle stalle pietro aveva tanti libri e quando è morto i suoi fratelli che hanno aperto quei libri si sono ricevuti degli schiaffi in faccia senza capire da dove arrivavano i libri di pietro erano i libri delle streghe i libri del potere una volta tito un mio vicino di casa avrà avuto 60 anni va a caraglio al mercato era autunno già un po piovoso mentre di notte tornava ai chiotti verso il collo e li valoriate vede nel vallone un chiaro una luce tito si dice questa sarà sicuro la pietra preziosa del rospo perché si credeva che i rospi avesse una pietra preziosa nel collo tito abbandona la mulattiera si incammina verso quel chiaro ma come gli arriva vicino vede una fiamma altissima che quasi lo acceca o povero me non è la pietra preziosa del rospo di corsa torna sulla mulattiera e poi grida ben forte sia quel che dio vuole adesso sono sul confine di valori adesso sono in casa mia in quell'attimo come risposta sente un gran frastuono come di tante orchestre per fortuna che ha pronunciato la frase sia quel che dio vuole è la frase che l'ha salvato la frase che ha spaventato le streghe ce n'erano su da noi donne conosciute come streghe erano tutte donne vecchie c'era una dei chiotti soprano che in casa aveva i due figli sposati e le nuore tutti dicevano che era una strega quando questa donna si è trovata sul letto di morte non riusciva a morire sperava solo che qualcuno andasse a trovarla e le desse la mano solo così poteva trasmettere il potere della strega e morire in pace ma nessuno andava a trovarla tutti avevano paura anche le nuore non si fidavano a darle la mano infine una delle nuore ha pensato di porgere alla suocera una scopa quella scopa si è messa a ballare nella stanza poi ha infilato la porta ed è scomparsa è alla scopa che ha dato il dono il potere della strega